il mercato della juventus passa dalle scelte di massimiliano allegri che sta delineando il mercato della juventus lo scorso anno quando arrivò alla continassa avevamo raccontato qui su fcm sport a proposito vi consiglio di iscrivervi volete tante notizie sul mondo del mercato anno scorso dicevo più volte vi dicevamo occhio perché la juventus o nuova juventus di allegri ha un progetto attorno e vede in allegri uno degli elementi cardine non soltanto in campo ma anche soprattutto fuori dal campo con una promessa fatta al tecnico di tornese quest'anno adeguiamoci perché non abbiamo molte risorse dobbiamo smaltire molti giocatori tant'è vero che solo dallo scorso anno abbiamo cominciato a vedere qualche uscita molte uscite che hanno alleggerito e non poco il monte ingaggi contemporaneamente arriva morizio arriva bene ma ci sono tanti cambiamenti la dio di ronaldo quello di ramsey quello di bentancur e a poco a poco la juventus si sta liberando di tanti giocatori fino ad arrivare a bernardeschi e di pala e quindi una juventus che punta forte sulle decisioni di max allegri ecco secondo gianluca di marzio anche la scelta di di maria è una scelta fortemente voluta da massimile allegri e perché la juventus ancora non ha mollato la pista di maria perché max allegri vuole a tutti i costi angel di maria lo ha detto anche ieri sera a sky calcio l'originale proprio gianluca di marzio è analizzato un po la situazione andando ad analizzare un po quelli che sono i cambiamenti rispetto a questa rotativa che comincia essere un po estenuante ma come vi abbiamo raccontato in questi giorni abbiamo raccontato anche tramite che cosa tramite la live la bella intervista abbiamo fatto a franco leonetti abbiamo avuto l'onore di avere qui su fcm sport e abbiamo chiesto proprio come mai l'evento sta portando avanti questi progetti lui ha detto proprio che il mese di giugno è quello dedicato è una prima parte del mercato è dedicato ai parametri zero ed è da lì che nasce la possibilità di prendere pogba e la possibilità di prendere proprio angel di maria ieri geluca di marzio ha detto che la juventus vuole fortemente angel di maria e non si ferma ed è per questo che sta formulando una nuova proposta per convincere sì perché siamo al convincimento del ragazzo e ho sentito tanti in questi giorni dire ma addirittura la juventus deve convincere di maria come se la juventus fosse il primo club del mondo e di maria fosse l'ultimo giocatore del pianeta ora andiamo un po a svestirci dei panni ai tifosi e vestire quelli di gente obiettiva la juventus in questo momento non è tra le prime squadre al mondo quindi se la juventus vada di maria che è uno dei migliori giocatori al mondo deve convincerlo senza ombra di dubbio io capisco il tifoso che dice noi siamo la juventus siamo una squadra gloriosa quindi tutti devono voler venire da noi a gambe elevato e ok però guardiamo poi i fatti è una juventus che non vince il campionato italiano da due anni ed è una juventus che non va in fondo in europa da 4 5 anni questo cosa vuol dire vuol dire che la juventus in questo momento ha meno appeal di prima per recuperare quell'appeal servono i grandi giocatori come li prendi convincendoli attraverso ingaggi del genere infatti la juventus secondo di marcio sta insistendo e ha modificato la propria offerta perché continuiamo a dire che di maria vuole un solo anno di contratto la juventus puntava forte su un biennale ed è quasi paradossale che una squadra offre un giocatore un contratto di due anni e lui richiede fortemente uno soltanto già qui ci troviamo di fronte a un'anomalia del calcio mercato però se di fatto di maria vuole un solo anno perché si vuole fare il mondiale ma vuole anche fare l'ultimo anno a grandi livelli in europa perché sa perché poi non giriamoci intorno non è che di maria va alla juventus per conquistarsi il mondiale perché secondo me di maria un posto nazionale ce l'ha comunque e ricordiamoci che il mondiale è a novembre quindi soltanto due mesi non è che in quei due mesi eventualmente la scelta dell'allenatore dell'argentina cambia ai giocatore come di maria te lo porti senza ombra di dubbio il cambiamento ora dove sta nel fatto che secondo gianluca di marzio al ragazzo prima continuava a essere proposto con insistenza un contratto da due anni quindi senza se senza ma ora la juventus che deve ripeto continua ad assecondare le scelte e la volontà di massimo allegri che ha detto alla società benissimo tutto questo progetto ma servono grandi giocatori e di maria e pogba lo sono sono proprio dei leader assoluti e lui dice un contratto di marzio parla di un contratto e la juventus cambiato un'offerta cambiata contratto con opzione per la seconda stagione perché questo intanto perché così facendo potresti soffrire il famoso decreto crescita ormai diventato quasi una barzelletta secondo poi perché avendo se in qualche modo spera di poterlo convincere magari fai un'annata importante con noi e magari lo convinciamo a stare un ulteriore anno perché la juventus fondamentalmente ci può stare e fa questo tipo di scelta perché se poi vediamo le alternative che ci sono e che sono delle alternative possono essere paragonate anche soltanto minimamente perché quando gianluca di marzo parla di alternativa di maria parla di perardi di zaniolo che con tutto il rispetto per questi due ragazzi italiani e della nazionale italiana non sono neanche minimamente paragonabili soprattutto vi dirò di più tra i due vi dico proprio berardi che non è paragonabile perché berardi è arrivata la soglia di 27 anni ha giocato soltanto al sassuolo non ha giocato una partita in champions league ma al di là del fatto che non ha giocato mai una partita non mi è mai sembrato neanche così indeterminante in serie a c'è un giocatore a 27 anni ha giocato solo al sassuolo e soltanto le ultime due stagioni berardi sono stati altissimo livello perché quelle precedenti ni e tra l'altro è lo stesso berardi che anni fa rifiutò di andare alla juventus quando arrivato solo blocco proprio per portarlo a torino stiamo parlando dei tempi di marò ecco una juventus quindi che però secondo di marzio ha dato una sorta di ultimatum a di maria ne parlerà lui con la famiglia col suo entourage e a 24 4 48 ore di tempo per decidere il suo futuro che sarà dentro o fuori perché perché sennò la juventus dovrà cambiare chiaramente obiettivo e quindi si passerà alla fase 2 descritta proprio da franco leonetti cioè la fase 2 in cui si prevede l'esborso di denaro per poter acquistare qualche giocatore perché in questo caso tu lo compri a parametro zero ricordiamoci che di maria dal 30 giugno 2022 praticamente tra pochi giorni sarà libero dal pc quindi lo acquisti a parametro zero poi ci sono delle commissioni eventualmente all'entourage ma quello è un altro discorso se tu invece devi comprare un giugno 3 come berardi o un 1 come zaniolo devi trattare col sassuolo devi trattare con la roma e devi pagare ti parla di un berardi che costa intorno ai 40 si parla di un zaniolo che costa quasi 60 capite bene che una juventus che ha da un lato di maria che ha un talento immenso dall'alto le alternative si chiamano berardi e zaniolo che le cui squadre a partenza vogliono dai 40 ai 60 milioni capite bene chiaramente se può si butta su di loro poi attenzione qualcuno mi può anche dire sì ma di maria non ha altre alternative nel mondo soltanto zaniolo e berardi io credo che la domanda sia lecita perché chiaramente tra tanti giocatori cioni in giro diciamo che proprio berardi e zaniolo non mi sembrano adattissime a fare il posto di bala punterei a qualcosa di più però fondamentalmente questo è il nome che si fa poi attenzione perché di marcio fa il nome anche di costic come alternativa io però continuo a dire che che costic non è l'alternativa di di maria intanto per una questione proprio di ruolo perché uno gioca a destra è uno gioca a sinistra quindi chiaramente se vanno di due ruoli diversi anche come caratteristiche perché costic è molta più quantità mentre di maria è molta più qualità costic può giocare anche in un ipotetico fantastichiamo 352 a tutta fascia perché un giocatore da tutta fascia di maria no di maria un giocatore deve stare molto vicino alla porta perché un giocatore di di grande qualità quindi francamente questo paragone non credo che regga anzi vi dirò di più come abbiamo raccontato qualche giorno fa allegri vorrebbe entrambi anche perché numericamente se andiamo a vedere di maria sarebbe il sostituto di di bala e per nardeschi sarebbe sostituito da costic e chissà forse anche forse anche morata visto le difficoltà ad acquistarlo e ne parleremo a parte perché il capitolo morata un capitolo su cui concentrarsi in maniera approfondita perché in questo momento credo che sia necessario parlare anche di morata ma in un altro contenuto perché sono diventerebbe davvero troppo lungo questo per cui è una juventus che entro il fine settimana si attende una risposta definitiva da anche il di maria so che la che è stato detto tante volte so che la juventus più volte ha dato questo tipo di input però io credo che una juventus che si presenta già a luglio con due nomi così importanti già chiusi che sono pogba e di maria è una juventus che già può dire il suo e può fare il mese di luglio e il mese di agosto andando a perfezionare altri colpi tipo eventualmente un colpo a sinistra eventualmente un giocatore al posto di ghiellini eventualmente un regista sono ulvice plavic ma sono dei nomi secondari tu i grandi colpi l'hai già fatti si chiamano pogba e di maria ditemi cosa ne pensate se la juventus fa bene continuare andare incontro alle volontà di di un fenomeno perché io sono convinto che senza me se ronaldo di maria sarebbe stato al top nel mondo in questi anni ditemi la vostra più sotto